Artigiano in Fiera 2019, ci siamo spostati nel settore dedicato alla Sicilia e siamo con Pomiglia Calamia Vini, un'azienda a carattere familiare che va avanti da generazioni. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro stand. Siamo qui da Marsala per proporre i nostri prodotti migliori. Innanzitutto lo Zibibbo, il vino liquoroso per eccellenza, ma anche la nostra punta di diamante. La punta di diamante della nostra azienda, il nostro amaro di Sicilia, un prodotto fatto con le scorze degli agrumi e le foglie dell'olivo. La fiera è molto bella, tanta affluenza, tanti riscontri, siamo molto contenti di aver partecipato a questa manifestazione.